Buonasera, buonasera e benvenuti, vediamo se vede tutto. Ok, eccoci, cambiamo solo una cosa sul... ok, così dovessi vederlo intero adesso, aspetta... Cambiamo solo la... Ho dovuto streamare Wolfenstein 2 del New Colossus, ma il distributore ce l'ha spedito, doveva arrivare oggi, non è arrivato, arriverà domani mattina o lunedì, quindi ritarderemo lo streaming di Wolfenstein, mi spiace. Quindi è il suo posto, vi farò vedere di nuovo le fasi iniziali di Assassin's Creed, oggi già abbiamo stato sbambo in previsione del fatto che arrivasse Wolfenstein e quindi di potervi far vedere quello. Io purtroppo non ho giocato ancora a questo, quindi non ho avuto modo di... L'ho già scaricato, grazie, ok. Regolare... Come vedete l'ho appena acceso. Come vedete l'ho appena, come vedete l'ho appena... Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi scuso per la qualità ma il trasmettere da Xbox purtroppo più di così non posso fare. Grazie a tutti. Ti troveremo... E ti sorprenderemo nel sonno! Nel sonno, io non dormo mai! Io aspetto... Nascosto nell'ombra... E vi ucciderò tutti! Tutti quelli che si trovavano lì quel giorno! Bene, inizia... Hai ucciso il mio padrone e hai pensato che fossi morto! Hai commesso un errore! Il tuo padrone era un criminale! Sono la sua guardia del corpo! È una questione di onore! Io sono il Mejjay di Siwa! Quindi sei un degno avversario! Mi stai facendo malissimo in effetti... Mi stai facendo malissimo in effetti... All'alto di più 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 di più! L'arma spezzata non ti salverà! Questa sarà la tomba per uno di noi! sarà la tua propongo una tregua non è te che voglio uscire il tratta di onore si combatte fino alla morte così sia ok così si trapportano i cavarchi non ci sono appigli come entro in un'altra stanza bene andiamo avanti grazie deve essere stato costruito secoli e secoli fa grazie 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 Ora serve a me. Ora serve a me. Ora serve a me. Oh no, c'era qualcuno ancora là? Vabbè, andiamo a cercare tutti... Vabbè... 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 Ho ucciso uno dei mascherati... L'Aerone... Vabbè... 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 Ci sei mancato a Siwa... Vabbè... 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 ...Ma indecisionire... Ah... ...Cosa che avete? Le vostre fattorie... I vostri beni... I vostri figli... Gli abitanti sono esausti... Dovete la vostra stessa via? Nessuno nell'oasi può muoversi senza essere interrogato, minacciato... Tassato o picchiato... Abbiamo imparato a obbedire e a tenere la testa bassa. Ecco cosa succede. Non attiriamo l'attenzione. Vuoi tornare a casa tua? Non ho più niente, ma... Parlami dell'Ibis. Medunamun. Si trova qui. È una disgrazia per l'Oesi. Come vedi, i soldati sono diventati ancora più crudeli da quando è arrivato. Prima bevevano e combattevano con gli abitanti. Ora che c'è Medunamun, siamo sempre in riga e ancora più violenti. Ottimi motivi per uccidere. Non sottovalutarlo. È magro ma muscoloso. È molto forte. Ecco che cosa capita a chi di giovedì a Medunamun. Si è tornato all'Oesi. Per gli dèi Amon e Iside. Vai, ecco, è tornato a... Wow. Ah, casa. Lascia la cavalcatura, non si allontanerà. Vai prima tu. Riposa, amico mio. È stata una giornata molto dura. Non mi serve riposare. Devo prepararmi per lui. Ebzefa! Ebzefa! I soldati hanno di nuovo... Bayek! Rabbia! Mia rabbia! Ero preoccupata per te. Mi conosci, non dovresti preoccuparti. Guardati! Ferito e stanco. Sto bene. Siediti! Siedi! Siedi! Ci penso io ora. Sempre la stessa. Tu e Aya. Vi ho sempre rimesso in sesto. Inventato scuse per i vostri genitori. Ora è tutto cambiato. Ma non tu. Non cambi mai. Per il sonno di Osiride. Credevo non ti saresti più svegliato. Rabbia mi ha medicato e mi sono... Dovevi riposare. Devi essere in forza per affrontare Medunamun. E quindi, amico mio... Un nuovo arco. Dai, perché non lo provi? Il colpo migliore è in mezzo a... Ok, ecco. Quanto è indietro? Cosa sta? Cosa sta? Ok. Uno dei manichini è più resistente dell'altro. Lì ci sono altre frecce. Ci sono altre frecce. Bene. Ezzepa! Che cosa c'è? I soldati ti cercano! Via! Vieni, venuti! Assicuriamoci che nessuno esca vivo da quella casa. Ezzepa! Ezzepa! Vogliamo solo parlare! Vogliamo solo parlare! Il Nomar Karudiek è stato ucciso! Il tuo amico Mejai potrebbe sapere qualcosa! Forza! Esci se vuoi essergli d'aiuto! Preparate un'imboscata! Cazzo! Troveranno le mie lettere, daranno fuoco a tutto, mi uccideranno! Non preoccuparti, ci penso io. Stai attento! Che succede? Chi va a... Resta giù! Si avvicina dopo! Ehi, cosa... Ora pensiamo agli altri. Non lasciare i cadaveri in piena vista! Lo prenderemo di sorpresa! Pensano di cogerci di sorpresa. Stai giù! Qui non lo vedrà! Ti uccido! Sei stacco! Ehi, la pinza! Grazie. 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 Grazie, Bayek. Te l'avevo detto, ma questi stronzi non frega nulla. Ne hanno, di coraggio. È triste. Vieni su. Devi sapere quali sono i compiti di umeggiai a Siwa. Tutti i problemi di Siwa sono qui. Provo ad aiutare tutti, ma non ce la faccio da sola. Stai dicendo che non hai i poteri di un dio? Ma il vero problema è l'uomo che vuoi uccidere. È Dunamo. La gente aveva delle specie quando è arrivato. Pensava che le cose sarebbero migliorate. La verità è stata subito chiara. La verità. Temo per la sicurezza della tua famiglia, sacerdote. La sposterò in una zona più sicura. Questo è l'uomo che devi affrontare. Lo troverò e lo ucciderò. Edunamun è molto più forte di quanto non sembri. E in più si circonda dei soldati migliori. Non mi interessa. Ti uccideranno. Devi diventare più forte se vuoi eliminare quel gran bastardo. Di sicuro ti servirà un'armatura migliore. Posso farmela da solo. Le armi sono più difficili. I soldati sequestrano tutto nel villaggio. Parlerò con il fabbro. Sì. Benipe può di sicuro prepararti qualcosa. O Senu può aiutarti a trovare quello che ti serve. Senu? Senu è viva! Guarda chi arriva! Senu, vecchia mia! In gran forma! Rabia l'ha rimessa in sesto. Devo ringraziarla. La gente ha un gran bisogno di te, Bayek. Aiutali e ti aiuteranno. Già, capisco. Devo procurarmi del cuoio. Guardiamo l'abilità. Altri punti di vita sbloccati. Allora. Questa è già acquisita, quindi io andrei a prendere. Colpo a testa mi sembra buono. Poi recupero frecce sì, se usiamo l'arco. E l'ultimo punto lo mettiamo su... Eh? Vabbè? No, questo costa due, quindi non posso. Abbiamo l'attacco caricato. Ok. Fatto. Andiamo avanti. Facciamo le missioni che ci dà adesso. Vaiek. Ho bisogno di aiuto con le richieste sul mio tavolo, se hai un po' di tempo. Teremon. Non è mai stato un debole. Sono urgente d'acqua della caverna di Amanat. Conosco quella caverna. Meglio controllare. Ok. Non è mai stato un po' di tempo, non è mai stato un po' di tempo. Mano. Faccio la animazione. Se besta. Non è mai stato un po' di tempo. No. Non cei anche sono ancora quasi. Trovi. Non è tau. Non è mai stato un po' di tempo. Non è. Ci corpo-di. Ec countries. Come Worli sono or Wimminato. Un po' di tempo. Grazie a tutti. 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 Dovrebbe bastare. Grazie a tutti. Potente dea della caccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. Oh! Ma che... Ehi, cosa? Muori, verme! Presto! Via! Dov'è te, Remun? Buon, Amon. Deve essere morto per le ferite. La sua famiglia vorrà dargli degna sepoltura. Cosa? Ehi! Linea di tiro libera! Vuoi morire o no? Non dai lì! Eccoti qua! Non mi scapperai! Bastardo! Cos'hanno fatto alla fattoria di Termo? Porto cattive notizie. Dov'è Issa? Giace qui. Con suo figlio e sua figlia. Tutta la famiglia. Già. Anche Teremun ha dovuto pagare un prezzo molto alto. Avevo avvertito che quel modo di fare gli avrebbe procurato solo guai. Cosa è successo? Cosa è successo? Sì. 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 Prendiamo il puntabilità per prendere poi questo. Lo usiamo. Ok, l'arco non ce l'abbiamo, bello. Ok, andiamo a vedere. Dove andare là? No. 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 Non posso resistere. No. 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 un bel pettorale sarà d'aiuto vuoi andare agli acca potete vedere malissimo in questo momento scusate cosa fermati e muori ce l'ho a portata allarme tutti qui lo prendo no 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 Oh 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ah, poi c'è un tesoro in su come non ho preso. Dov'è? No, no. 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 C'è un tesoro ancora da lepredare. Ora cercheremo il tesoro da lepredare. No. 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Va bene. Grazie a tutti. e...